Un incendio si è sviluppato stamani sul lungomare delle Palme di Siderno. A prendere fuoco è stato il rimorchio di un autotreno parcheggiato da tempo lì e carico di legname e materiale usato riguardante la struttura portante di un noto stabilimento balneare attivo in estate ma che viene rimosso dalla spiaggia durante il periodo invernale. Ingenti i danni che da una prima stima monterebbero a circa 50.000 euro. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Siderno e di carabinieri che hanno avviato le indagini.